Succhiamo l'Inter. Ora il rosso-nero è stato imbattibile, ma prima di raccontarvi cosa è successo, dimostrate di essere rossoneri e cliccate sul pulsante mi piace ora passiamo alle notizie. Il Milan ha avuto grandi difficoltà in difesa in questa stagione e una crisi di infortuni tra i difensori. Centrali è stata una delle cause principali. Per la prossima stagione, quindi, i rossoneri vorranno essere pronti a tutto. Secondo il giornalista Saccia Tavolieri, il Milan ha chiesto informazioni sul futuro del difensore centrale dell'Underlecht Zeno Di Bast. Il ventenne ha giocato 24 partite in questa stagione ed è corteggiato anche dall'Eintracht Francoforte, con la squadra belga che spera di fare cassa in estate. Il contratto di Di Bast con l'Underlecht scade nel 2025 e questo potrebbe portare a uno sconto in estate, anche se il Milan non lo considera una priorità al momento. Molto dipenderà probabilmente dal prosieguo della stagione, perché dopo sarà più facile valutare la situazione del difensore. Matteo Gabbi è rientrato a gennaio dal prestito al Viglia Reale e ha fatto molto bene, guadagnandosi potenzialmente un posto in prima squadra anche nella prossima stagione. Con lui, Pierre Calulu, Ficaio Tomori e Malik Thio, il ruolo di difensore centrale si può considerare coperto. Anche il giovane Giancarlo Simic è impressionato, ma potrebbe essere ceduto in prestito in prima divisione, ottenendo un tempo di gioco costante per continuare il suo sviluppo. Ora tocca a voi, se pensate che sia un buon affare, fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan.